Ecco qui, Marte. Starai vicino alla tua amica Terra. Oh, sta molto attento a Giove. È pieno di gas. Ehi, Lincoln. Lucy, hai sporcato di sangue il mio progetto per la scuola. Rilassati, è finto. Uff, perché non è vero? Ci vuole più melassa. Forse così avrebbe la densità giusta. Ciao, Rusty. Ciao, Lincoln. I miei sono al lavoro, perciò ho portato anche il mio fratellino. Tranquillo. Rocky, benvenuto a Casa Loud. Grazie, amico. Hai portato Urano. Non esco mai senza. C'ho solo. Che è successo? Drama. Devo fare lo pipì. Va di sopra, in fondo al corridoio, a sinistra. Drama. C'è qualcuno? Drama. Drama. So che non è esattamente il mio tipo, ma lui è così. Com'è che dicono le mie sorelle? Carino. Tranquillo, Edwin. E rimarrai sempre tu, la mia anima gemella non morta. Ma finché non saremo insieme, sarebbe bello avere qualcuno con cui uscire. Tu credi che dovrei parlargli? Sapevo che avresti capito. Vedo che hai trovato il mio sangue. È la mia nuova ricetta. Barba pietola, melassa e cacao in polvere. Ora è più denso di sicuro, ma non schizza. Ciao, io sono Lucy. Vuoi mettere una maglietta pulita? Vorrei specificare che di mio fratello io non indosso cose così offensivamente colorate. Andalo. Vuoi mettere una magla domani. Grazie a tutti.